Buongiorno ragazzi! Io sono Mary! E io sono Damirillo! E chi siamo Damirillo? Chi siamo Damirillo? Iniziamo! Iniziamo sì! Iniziamo! E benvenuti nel secondo canale! Questo è il primo video del nostro secondo canale! Certo sarete straniti a vederci in un altro canale! Sì! E se siete confusi è perché non siete aggiornati ragazzi! Non sapete che abbiamo aperto questo nuovo canale dove ci saranno tantissimi nuovi video! E quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi subito a qui sotto e attivate anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei prossimi video! E andate a vedere nel frattempo il video che è uscito nel primo canale! Chi è qui avendo già visto quel video? Scrivetelo nei commenti! Oggi come potete vedere abbiamo davanti delle cose che tutti voi saprete subito riconoscere! Eccolo che serve per fare lo slime! Abbiamo colla bianca! Trasparente! Glitter! Guardate che bello! Questa qui è una sabbia glitterata! Non so però è rossa! Glitter azzurri! Perline! Perline e altri glitter grini! Poi abbiamo queste palline bellissime e soffici! E i colori! Abbiamo le nostre palettine! Nuove per l'occasione del nuovo canale! Ah! Va bene! E vabbè le scudelle! Però avrete notato dopo aver fatto tutto il riepilogo che qui c'è un'altra cosa! C'è il telecomando di una televisione! E sapete cosa ci faremo con questo? Oggi faremo la Pausa Slime Challenge! Slime to Pausa Challenge! Beh Dominique dai! Ovvero adesso noi cercheremo di fare lo slime più bello di sempre! Scegliendo gli ingredienti che vogliamo aggiungere! Ma ognuno di noi due avrà tre possibilità per mettere in pausa l'altro col telecomando in qualunque momento! Eh? Sei in pausa o no? Sì sei in pausa! Ok! Non ti muovere! Lasciami spiegare! Ovviamente mettendolo in pausa renderò il suo lavoro più difficile! Lo rallenterò! Gli farò diventare brutto lo slime! Ok! Tornare! Alla fine vince chi riesce a fare lo slime più bello nonostante le pause! Ma sarete voi a decidere quale sarà lo slime più bello eh! Quindi state molto molto attenti! Che dite? Iniziamo! Per prima cosa dobbiamo scegliere la colla e io cerco quella da prese! Penso sapete tutti come si faccia uno slime! Serve la colla! Ma anch'io volevo quella trasparente Erick! Quindi dovrei aspettare! Guarda guarda! Non esce! Non esce! Non esce! Voglio fare le cose sistemate! Fai fare a me! Abbiamo tanta colla! Voglio fare uno slime! Erick c'è un doppio tappuccio! Ah non è colpa mia! È nuova! No io! Dai Erick serve anche a me! Mi stai già rallentando! Senza nemmeno fare la pausa! Ecco qua! Grazie! Non avlettere tutta! No non ti preoccupare! Ah ecco qui la mia colla! Ogni anzi! Ehi che vuoi fare uno slime più grande del mio? Per prima cosa scelgo il colore del mio slime! Azzurro! Io invece prima del colore voglio subito iniziare provando questa polverina rosa ragazzi! Sono super curiosa! Inizio a mescolare! E adesso diventerà tutto azzurro per magia! Penso spero! Sì sì sta cominciando a diventare azzurro guarda! Forse è un po' pochino! A me non sembra tanto bello! No non ti preoccupare guarda è che si deve mettere ancora più colore! Ok forse è carino! Va bene e non mi distrarre più! Io metto la mia polverina guardate che bella! Oh ma sembrano bellissimi! Guardate come sono belli nello slime! Sono fantastici! Iniziamo a mescolare? Vediamo sono proprio curiosa di vedere il risultato! Perché in caso me le presti! Oh mio Dio guardate che belli! Mescoliamo per bene! Wow è diventato un rosa! E' super clitterato no! E' fantastico! Ma neanche il mio è male! Guarda è diventato tutto blu! Ma il mio è clitterato! Beh nessun problema! Io ai miei brillantini azzurri li aggiungo a eri! No pausa! Non so se aggiungerai i brillantini azzurri! No no no! Eh devi rimanere in pausa! Pausa! Pausa non ti puoi muovere! Leviamo questi! Li leviamo! Maglia! Stacca stacca! Che potremmo fare? Niente! E' bellissimo questo slime mazzurro! Sarebbe un peccato se qualcuno lo rovinasse! Dai Dominique! Per esempio se provassimo a mettere un po' di marrone! No! Marrone! No no! Secondo me non sarebbe più tanto bello! No ti prego no! Ti prego no! Ti prego! Eric mi dispiace! No! Non esce ragazzi! La fortuna non vuole aiutarmi! Dai Dominique basta! Bene bene bene! Io direi anche di mescolare! Ma che se puoi sempre farlo tu perché devo fare questa faccata? Sì sì! Lo mescolerai dopo! Va bene! Via! Dominique perché l'hai fatto? Era bellissimo! E' lo azzurro più bello del mondo! E adesso è messo il marrone! Neanche lo posso togliere! Mescolare! Vedi che succede? Bene! Io andrei ad aggiungere al mio slime le perline rosa! Guardate ragazzi! No! Guarda! Sta diventando oscuro! Ma perché? Dai! Non è malissimo! Io aggiungo le mie bellissime perline rosa! Pausa! Prima cosa! Togliamo queste perline rosa! Sono belle! Non te le prendo ti prego! No 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 no! No 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 no! Non ci stanno! Però! No 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 no! No nero no! No Eric! Nero sì! No no ti prego! Solo il colore è peggiore del marrone dello slime! Oh perché l'ho già pensato io al nero! No no! No basta! Mi hai messo tantissima! Ti hai messo troppo! Oh perfetto! Soddisfazione! No no ti prego! Ma sì sì! Quando mi sblocchi? Ah vero! Sì sì! Via! Eric! Perché? Lo levo! Lo levo! Lo levo! Lo levo! Lo levo! Lo posso levere! No! 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 Adesso cosa diventerà? Questa che sarà il mio bellissimo slime rosa! Oh non ho il coraggio di mescolare! Guardate qui! Non sarà più uno slime rosa Dominique! Sarà uno slime grigio o nero forse insomma! No! Guardate! Ma cos'è? Era così bello! Sto diventando viola! Oh mio dio! No! Più mescolo e più diventa nero! Guardate qui! Ehm... È brutto! Ehm! E adesso io metto questi bellissimi glitter azzurri! Così magari il mio slime torna proprio azzurro acceso! Che poi non è diventato così marrone! Il tuo! Il tuo è brutto! Il mio no! Potrei aggiungirla con la bianca! Forse diventa più chiaro! Basta schierirlo un po'! Penso! Spero! Sì certo! Oh mio dio! Eric! Eric! È tutto un pezzo questa colla! Ah guarda! Sta diventando più carino! Guarda! Oh mio dio! Forse ce la stai facendo! Vediamo se diventa più chiaro con la colla bianca! Io ho i miei dubbi! Ho i miei seri dubbi! Eric! Che pensa il tuo! Va bene! Cos'è questa cosa bruttissima ragazzi! Mamma mia! Oh mio dio Dominic! Sembra il vomito di una mucca! Un po' che comunque schierisce! Anche se pensavo diventasse viola! Invece qui è il colore... No gofo! Pausa! Che devi fare adesso? No no ti prego! È già bruttissimo così! Non fare altro! No no che stai facendo? Che stai facendo? Ehi come sei? Ma l'hai impazzito! Perfetta! È gacciato! Stop pausa! Ma l'hai impazzito! Ma perché mi hai scornato lo slime in faccia? Perché? Non è ancora slime! È solo colla! Ah! Fammi pensare al mio slime! Tu lo sta venendo meglio! Ah! Mi si sta colando la faccia! Bene! Aggiungo le perline! Dai! Non è così male! Ma sei bruttissimo! Mescoliamo! Ma è proprio brutto brutto! È carino! Ma io non mi hai visto lo slime così brutto! Eric! Guardati il tuo! Ma quanto è bello questo slime! Mi è venuta l'idea! Mi serve un altro ingrediente! Dominique posso andare a prendere un altro ingrediente? Che ti prendo anche un tovaiolo! Va bene se mi prendo il tovaiolo sì! Ok! Così! Sì sì sì! Piccola! Sì sì sì! Eccomi qui! Grazie il tovaiolo! Ah sì sì! Grazie! Grazie Eric che sei stato gentilissimo! La schiuma da barba! Pausa! Era questo l'ingrediente? Sì! No! Ti avevo messo in pausa! Non ho fatto niente! È uscita sola! Sì è uscita sola! Certo! È uscita sola! Come qual è la resta per uscire a me? È uscita sola! È anche sul naso! È uscita sola! È uscita sola! È uscita sola! Ok! È troppo divertente così! Perfetto! Continuo pure! No dai! Ma perché? Io penserei di più alla tua faccia! No dai! Ma perché? Adesso non rimane che mettere l'attivatore! Perfetto! Ve lo devo mettere che motivo! Pausa! Ne mettiamo di più! Così! Così diventerà troppo denso questo slime! Potrebbe succedere purtroppo! Io metto quello giusto! Senta esagerare! Blocami! Un altro poco! Basta! Blocami! Blocco! Ah! Perché? Vesco! Buona fortuna! No! Ok! Ok! Ci siamo! Falta! Ho iniziato a prenderle con le mani! Dominica ma sei sicura? A me sembra liquido! Oh! Ok! No! Forse non è tanto il caso! No! Quello è liquidissimo! Mi sei troppo più denso! Enrico ti prego io! Dammi un po' di acqua! Di attivatore ti prego! Ah certo Dominica che ti aiuto! Certo! Enrico! Posa! No! No! Dai! Enrico! Ho le mani tutte incollate! Anzi! Sai che cosa potrei fare? Che cosa potrei fare? No 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 no! Potrei prendere questo slime che ancora non è diventato slime con la liquida e versartelo a zosso! Stai scherzando? Magari anche da un'altezza adeguata Dominica! Stai scherzando i capelli non puoi farlo! Non puoi farlo! Non puoi farlo! Sì sì sì! Proprioci i capelli! Vedi che capisci! Non puoi farlo! Non puoi farlo! Ecco qua! Ecco qua! Non puoi farlo! No 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 no! In effetti non posso farlo! Perché non posso fregare il mio amato slime! Però volendo una cosa posso anche farla! Cosa? Aiuto! Aiuto! Che stai facendo? Ecco a te! Hai scolato la colla ovunque! Ah è per finire! Stop pausa! Ehi Rick! Oh mio Dio! Le mani incollate! La frutta è incollata! Ah me l'ha metto da sola! Brava! Aiuto! Aiuto! Ci siamo! Ecco il nostro slime! Ok è molto appiccicoso! Tu Eric? Anche il mio abbastanza! Oh mamma mia! Cosa abbiamo sbagliato? Non lo so! Aiuto! Ok ragazzi! Allora noi con le mani nello slime vi salutiamo! Voi comunque lasciate un bellissimo like se vi è piaciuto questo video e se vi siete divertiti e vi oggi insieme a noi! Aiuto! Iscrivetevi al canale attivando la campanellina! E consigliateci se volete altre sfide da fare che volete vedere su questo canale! E venite a scoprirlo al prossimo video se ci saremo liberati oppure no! E noi ci salutiamo! Maria Tiziana Baratta! Caterine Patullo! Roberta Michelini! Caterine Sion! E Giorgia De Sillis! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Sono un po' bello! Sono un po' bellissimi! Noi siamo troppo belli! Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video! Ciao! Aiuto! E ora chi l'ha spengata la camera? Io! No! 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 No!